Il calendario entra nel vivo. Superati gli scogli Prato e Barletta, per la Nocerina è il momento di pensare al Tris con il Frosinone. Domenica inizia il Tour de Force per i Molossi, che giocheranno con i Ciociari e poi in sequenza con Perugia, e dopo la sosta del 24 febbraio a marzo, Catanzaro, Paganese, Pisa e Avellino, prima del rush finale di aprile maggio post Pasqua. Mister Auteri recupera Scardina per la difesa e avrà dunque la possibilità di far girare i calciatori a disposizione, anche se la giovane coppia centrale Baldà Nechiosa, seppur poco pungolata domenica scorsa con il Barletta, si è comportata più che bene. Il trainer siciliano potrebbe spostare uno dei due sulla fascia, lasciando così spazio a Scardina, che ben inteso è diventato una sorta di leader del pacchetto arretrato. A centrocampo Corapi ci sarà, anche se il giocatore resterà con il fiato sospeso ancora per qualche giorno a causa della vicenda a contratto con il suo ex club, il Catanzaro. Nocerina senza squalificati e quindi con la possibilità di schierare il miglior undici possibile contro un Frosinone che giunge alla sfida dopo il Paribeffa con il Prato dell'ultimo turno. Come sempre Auteri non lascerà trapelare nulla sulla formazione fino all'ultimo istante, ma dalla cintola in su dovrebbero giocare gli stessi di sempre, con Mazzeo in gran spolvero dietro negro ed evacuo e con Bruno, De Liguori e Corapi a comporre la linea mediana. Il Frosinone dell'ex Massimo Zappino e del tecnico Stellone vuole rientrare nel giro che conta, due punti in meno in classifica rispetto alla Nocerina. Insieme al Viareggio i Ciociari risultano essere leader nella classifica dei pareggi, ben otto raccolti in questa stagione e i numeri parlano anche di difesa quasi imperforabile visti i 17 gol subiti secondo a miglior retroguardia del torneo.